Sottatami, Zemarica, la Cappella Giannani, organizzazione Tattami 3, si prepara per il Vincenzo, Sottatami, Angelino Dell'Ambri. Sottatami, Zemarica, la Cappella Giannani, organizzazione Tattami, Zemarica, la Cappella Giannani, scusa, sotto la presa, sotto la presa, vai Giannani, vai Giannani, è bravo, fallo però, pensate che questo è nuovo non c'è stato così 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 vai ancora vai zio ritmo 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 vai zio ritmo 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 vai 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 giami vai giami Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.